buongiorno buongiorno queste qui sono le case che abbiamo visto l'altra volta erano quasi quell'altra volta delle case nuove mattina siamo andati in tour andiamo questa è la strada di dietro questa è la strada che porta alla fine del centro che poi noi dobbiamo fare tutta la piazza dove fanno il mercato sono brava si sta imbarando le strade si imbarano tutte le strade 13 anni per passaggino 13 anni guardate le case di Sant'Olba c'è il sole oggi è nasce la cimeionata almeno per gli inglesi e noi appena li finiscono veniamo qua giustamente si si la signora si stanno riprendendo il bus ma che bella giornata ci sono ciao ciao